Tra le misure previste nel decreto del Governo in vigore da ieri 15 marzo ci sono anche aiuti alle famiglie, congedi parentali per genitori di studenti in didattica a distanza o in quarantena, smart working e bonus babysitter. Il decreto prevede fino al 30 giugno del 2021 in caso di sospensione delle attività scolastiche di infezione o quarantena dei figli la possibilità per i lavoratori dipendenti di usufruire dei congedi covid retribuiti al 50% e per gli autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari, la possibilità di optare per un bonus babysitting. Il direttore del patronato inca della CGL di Chieti, Giuseppe Visco, spiega che i congedi sono rietroattivi a partire dallo scorso primo gennaio e interessano i genitori di studenti fino a 14 anni. Chi ha figli dai 14 a 16 anni ha invece diritto allo smart working. Prevede la possibilità innanzitutto per i genitori che non sono in smart working di poter chiedere dei congedi parentali al 50% della retribuzione e anche un bonus babysitting. Però nel caso del bonus babysitting sono limitate solo a alcune categorie di lavoratori. Parliamo di lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratori autonomi, quindi artigiani, commercianti e coltivatori diretti, lavoratori del comparto sicurezza impegnati nell'emergenza covid e i lavoratori del comparto sanità sia del settore pubblico che del settore privato. La novità rispetto alle presenti previsioni normative è che la durata di questi congedi fino alla durata della DAD, della didattica a distanza, o legati anche al contagio da covid o alla quarantena disposta per il figlio minore di 16 anni. Fino a 14 anni è prevista la contribuzione al 50% e la contribuzione figurativa come se si stesse lavorando. Da 14 anni a 16 anni è prevista solo la conservazione del posto di lavoro. Possono già essere presentate le domande all'Inps? Possono essere presentate esclusivamente in via telematica con il proprio speed o rivolgendosi anche al patronato, quindi anche al patronato Inca CGL. Da informazioni e indiscrezioni sappiamo che il circolare Inps dovrebbe uscire per venerdì, pertanto per quella giornata dovrebbero essere rilasciate anche le procedure online. Comunque in ogni caso entro la settimana prossima sicuramente potranno essere inoltrate le domande all'Inps?